E' stato revocato lo sciopero di Riviera Trasporti che era stato proclamato da CGL, Cisle, Will e UGL per lunedì prossimo. Lo hanno deciso le stesse organizzazioni sindacali che hanno fatto sapere di aver avuto garanzie e certezze circa nuove assunzioni di personale da parte di RT. Entro breve termine, a influire positivamente sulle decisioni dell'azienda di trasporto pubblico è stata la modifica della destinazione d'uso del deposito di Sanremo, deliberata dal Consiglio Comunale. In questo modo infatti l'azienda potrà procedere alla vendita della struttura recuperando importanti risorse. La Faisa Cisle ha fatto invece sapere di voler semplicemente differire a data da destinarsi lo sciopero di quattro ore, annunciando di essere stata convocata dall'azienda per affrontare i problemi evidenziati in precedenza dallo stesso sindacato. Lunedì prossimo quindi il servizio di trasporto pubblico sarà regolare su tutte le linee della Riviera Trasporti.